Musica Salve a tutti amici, sono Mr. Dellerick, ben ritrovati qui sul mio canale e ben ritrovati su un nuovo episodio di Attila Total War Dunque signori, qua c'è da dare una bella mossa alla cosa Visto che alcuni di voi mi hanno suggerito una mossa che io reputo, anzi uno di voi in particolare, io che voglio ringraziare Simone Perché mi scrive veramente dei papiri enormi quando vede una partita di Attila, si vede quanto è preso da questo gioco, da quanto gli piace, da quanto gli piace questa serie Per cui io ti voglio ringraziare davvero per darmi tutto il tuo sostegno, mi dai una grandissima soddisfazione Simone, veramente Tra l'altro si nota quanto tu sia bravo esperto in questo gioco, cioè io in confronto sono una mezza merda, veramente Mi muovo a tentoni in questo gioco in confronto Io ho pensato quindi di seguire molto volentieri il tuo suggerimento E desidero quindi prendere queste truppe perché sono sicuramente molto più preparate e abbiamo soprattutto gli onagri E di spostarli in gran fretta verso Londra Verso Londra e attaccarla possibilmente prima Eh non ci riusciamo ad arrivare, vabbè per il momento Ma vediamo se riusciamo Ok potremmo poi arrivare fino a qua, si ok ok Vorrei cercare di attaccarla prima dei nostri amici yuti che comunque sarebbero dei nostri alleati Spererei di riuscire a fare questo colpaccio Se proprio mi va male attaccherò quest'altra città e questa sopra E quindi muoverò guerra ai sassoni Tra l'altro, allora qua abbiamo ancora i franchi Questa è la nostra spia Abbiamo sassoni anche qua quindi mi devo proteggere Mi dovrò proteggere In questa città E sarà un cavolo di problema Perché come vedete siamo un po' nei casini un po' dappertutto Allora vabbè niente Intanto passiamo i turno Qui adesso abbiamo un meno 16 Qua arriverà una ribellione Non importa Ho l'esercito del re che è pronto qua a fare il suo lavoro Gli do qualche nuova truppa Diciamo almeno la miglioriamo E passiamo il nostro turno Ok abbiamo una ribellione in atto Ok va bene Lealtà assicurata Perfetto Accidenti qua c'è un bordello Allora c'è una ribellione in atto Però come potete vedere i ribelli sono veramente quattro cani Per cui li andiamo immediatamente a castigare Dove cazzo pensate di andare? Dove pensate di andare? I ribelli qua muoiono e muoiono molto male Facciamo una modalità equilibrata Tanto non possono scappare Perfetto Uccidiamo i prigionieri Perché ovviamente non Accettiamo Vediamoci Possiamo muovere un pochino di più Ok vabbè più di così non si può Allora Eh mannaggia il cazzo Qua è successo di tutto C'è un esercito sassone Abbastanza importante Che è trincerato fuori dalla città Allora potremmo fare una cosa di questo tipo Io penso Spero Voglio fare questa prova Eh ragazzi Cari amici Ghiuti Ghiuti Allora Aspetta No ho sbagliato tutto Scusami Volevo un obiettivo di guerra Coordinato E che non Non possiamo fare Perché giustamente Non siamo Non sono in guerra Io ancora Però potrei avvicinarmici E che non sono messo così Allora fammi vedere Cosa mi verrebbero a costare Dei mercenari Però dovrei sapere Un po' meglio Le loro unità Allora C'è da dire che hanno Dei mercenari Pure loro Che sono dei cazzoni Questi devono essere Veramente scarsi Hanno degli arcieri Hanno della cavalleria Non sappiamo che cos'è Tutto ciò La spia Mi servirebbe Come non mai E allora intanto Potrei Avvicinarmela E intanto Magari Temporeggiare Potrei anche Prendere questa città In realtà Però io volevo Fare il colpaccio Direttamente A Londra Perché Potrei farmi Aiutare Proprio dagli Aiuti Però Visto che Devo Aspettare Mi potrei Un attimo Fortificare No ma tanto Non sono in guerra Per cui Non dovrei Avere grossi problemi Come sono messo Io diplomaticamente Con questi stronzi Con i sassoni Allora Sì ok Non sono molto bene Ed è in deterioramento Va bene Ok È inevitabile Questa cosa Per il momento Allora ti lascio qua Qui andrà ancora peggio Quanto pare La situazione Potrei No militare Peschereccio Commerciale No diminuisce ulteriormente L'ordine pubblico Io qua ho bisogno invece di Più roba Deposito di pioce Piombo Cosa che avevo smantellato Probabilmente il pozzo O il deposito di piombo Non me lo ricordo più Però Smantelliamo Comunque Il Il pozzo E vediamo Cosa possiamo fare Qua Qua c'hanno anche Una flotta Di Ucazzarola Di Altra gente Che sta arrivando Tra cui c'è il re Tra l'altro Oh che bello Oh che bello Qua ho Truppe che sono Migliorate Molto bene Come sentite Io ho ancora Un'allegra morte In corpo Allora Questo è il nostro Eroe Assalto unità Sabotto esercito Adestramento militare Questo decisamente Lo voglio Potrei usare Anche questo Ma si Ok E abbiamo anche Delle nuove abilità Qui Perfetto Sì qua Decisamente Dobbiamo puntare Al Al combattimento Solo che però Per sbloccare Le bonus Successivi Bisogna fare Per forza Di cose Così Che cos'era Questo Integrità Ma l'integrità Mi credo sia Abbastanza alta Anzi no È enorme L'integrità Qua va bene Ok Qua ci siamo Abbiamo Siamo in positivo Finalmente È qui che non siamo Messi bene Ma siamo in positivo Anche qua Evviva Che cazzo Di bordello Va bene Allora passiamo Ah Un nemico Ucciso in battaglia Aspetta Ah ok No no Va bene Tutto nella norma Allora Vogliono un'alleanza Militare I danni I danni Sono in Guerra Con i separatisti Dell'est E loro vorrebbero Che io pagassi No Per il momento No Allora Perché gli uti Mi stanno chiedendo Di partecipare La guerra Contro Contro L'impero romano Ma no Ma non voglio L'impero romano Fosse i sassoni Va bene Ma l'impero romano No Poi sono tra l'altro Qua in fondo adesso Quelli hanno Schiacciati No no Niente mi dovrò Arrangiare da solo Probabilmente io qua Con i sassoni Eh Eh sì Ok C'è un'altra Ribellione Imminente Eh Anche qua L'ordine pubblico Diminuisce Vabbè Allora Rientriamo E qui siamo A posto Allora Adesso L'esercito È tutto Dentro Potremmo No cazzo Sono venuti di qua Ad attaccare Qui non vediamo Assolutamente Ancora Però avranno Un bel po' E io voglio Massacrarli Questi Eh però Dunque Qui dovremmo Essere a posto Adesso E voglio Creare Un terreno Sacro Devo aumentare Decisamente Eh sì Il pozzo L'ho appena Ristrutto Ecco Casa del Capo Tribù Fammi vedere Però come prosegue La Casa del Capo Tribù Sì sì Mi va benissimo La Casa del Capo Tribù Perfetto Perfetto Ok Agente scoperto Sì vabbè Era qua in fondo Mi interessa poco o niente Però a me Interesserebbe Se questi Allora Vediamo un attimo Se riusciamo a fare Una cosa di questo tipo Dove siete Ghiuti Ghiuti Io non sono ancora In guerra Con i Sassoni Però mi piacerebbe Allora Hanno questi Territori E il grosso Del loro esercito E qua E ne hanno uno Che abbiamo visto Per mare Quindi io Fondamentalmente Mi potrei preoccupare Se mai Solo di questa città E non sono Neanche troppo distante Ne con questo esercito E neanche con questo Allora Io Mi procuro Un po' Di mercenari Vediamo un po' Che cosa abbiamo Allora Abbiamo già Tre onagrili E mi va benissimo Gli schermagliatori Poi di questo tipo Sono piuttosto Buoni Allora Fammi vedere un pochino Il mio esercito Perché non ho Molti schermagliatori Non ho Effettivamente Troppi schermagliatori E aver avuto Degli arcieri Sarebbe stato anche Abbastanza interessante Contando che Loro ce li hanno Io farei Decisamente Allora Della cavalleria Allora E va bene Poteva avere Solo una Di questa Va bene Potremmo fare Questi benedetti Schermagliatori No ma questi sono E' una città murata Per cui No mi serve più Infanteria Che dovrà Che dovrà impattare Anzi Schermagliatori nordici Mercenari Questi Prenderò Questi Cazzo Anche questi Qua sarebbero Fortini Vai non voglio badare a spese Vaffanculo Mi prendo questi Reclutiamo E attacchiamo Ragazzi Quest'oggi Mi voglio rovinare Di chiara guerra Allora Chiedo aiuto Agli alleati Perché no Cazzo Sono alleati Anche dei franchi Devo stare Molto attento Adesso Ok siamo entrati Tutti in guerra Allora Vincere vinco Non ci sono Cazzi Che razza Di torri Una riete Leggero Allora Una riete Mi ci vogliono Tre turni Una scala Tre turni Ma io avrei Anche Gli onagri Però Giusto per Giusto per non sapere Ne leggere Ne scrivere Sperando che qui Loro non abbiano Armi da sedio E facciamo che Continuiamo L'assedio Allora Qui io adesso Chiederò Agli iuti Di partecipare Alla guerra Eh no Cazzo Ma voi già Siete in guerra Che ficata Benissimo Avete accettato Anche voi Allora Un bel attacco Combinato Ok Perfetto Spererei che mi raggiungano Ora io mi dovrò Proteggere Abbastanza Le chiappette Da questa parte Sperando che non mi attacchino Subito Eh ragazzi Passiamo Intanto Allè Altra ribellione Affare di stato Allora Qua ci sono i franchi Che sono sbarcati Insieme a dei ribelli britanni Che di cui però Mi interessa Già meno E qua Vabbè Mi hanno fregato In realtà Questo insediamento Di cui non mi interessava Assolutamente nulla Per cui mi sta anche bene Dunque È che non ci arrivo Io qua Dannazione Questi sotto assedio Non posso Combinare Niente Possibile Che non posso Fare niente Qua io Eh vabbè E allora Senti che facciamo Vi metto dentro L'esercito Ti dico Supporta Esercito Adesso Forse Potremmo Vedere No Non possiamo Vedere Tutte le loro Truppe Qui abbiamo Qualche cosa Da regolare Sì ma Questo Chi sarebbe Di chi sarebbe Vabbè Intanto accetto Il dono Anche io Accetto il dono Va bene Non so Chi fosse Qui andiamo In positivo Finalmente Mamma mia Io sarei Anche lì Per dire Adesso Prendo Questi E li Mando A fare Il culo Qua Meno 31 Meno 24 Questi per il momento Vi lascio ancora qua Qui io sto pensando Di fare un attacco Di fare un attacco Diretto Perché Ora che aspettiamo Che siano pronte Ah no Sono già pronte Tra l'altro Ok Quindi ragazzi Io direi che Per la battaglia Ci possiamo Ritrovare Nel prossimo episodio Io penso che Il prossimo episodio Potrebbe essere L'ultimo Della serie Qui di Attila Total War Con i nostri amici Vichinghi Ci rivedremo Sicuramente Con Total War Warhammer E Direi quindi Che Se avete comunque Consigli Riguardo a questa battaglia Cosa che io posso fare Durante adesso Questo turno Se mi conviene Costruire Una Diciamo Una torre da sedi O quant'altro Ecco Mi raccomando I commenti Pollicini in su E noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video Stati in campana Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima